Eccoci tornati in diretta 18.31 in... Siamo proprio Svizzeri Vincenzo Capuano, hai visto? Che spettacolo, buonasera Francesco Svizzeri, come stai? Bene, tu? Tutto a posto, stai facendo un sacco di cose, eh? Sì, 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 un bel periodo, bello piano ed è un piacere essere qui con te Allora, tra poco vediamo il videoclip dell'ultima canzone che è Nella mia pelle È un titolo importante anche, cos'hai dentro la pelle? Beh, è una canzone che racconta di quelle storie d'amore che secondo me ognuno di noi ha vissuto Quindi quelle storie che rimangono dentro di noi E anche il videoclip racconta delle storie indelebili L'abbiamo girato al castello di Santa Severa E quindi sono quelle storie d'amore che lasciano tanto dentro Che ti fanno vivere tante emozioni E che veramente ti donano tanto e allo stesso tempo ti levano Perché poi gli amori, quelli folli, in un certo modo ti danno E in altri modi ti levano E sicuramente c'è tanto da dire e tanto da raccontare E tanto di cui sfogarsi E quindi è una canzone che vuole essere uno sfogo In qualche modo sembra quasi una lettera d'amore Per come è scritta E mi fa piacere che anche chi la sta ascoltando Mi riporta questa cosa Che ci rivede quasi una lettera d'amore E che rivede quasi il loro amore raccontato E quindi è veramente una canzone Che libera da tutte le emozioni positive o negative Che ti dà l'amore Tra l'altro una storia d'amore nata Un sigillo, no? La proposta di matrimonio fatta da Francesco Dotti e lei Iblasi arriva proprio al castello di Santa Severo Poi vent'anni dopo è successo quello che è successo Però intanto la proposta di matrimonio è arrivata là Sicuramente quella è una storia d'amore che rimane nella pelle Esatto, esatto, esatto La vogliamo ascoltare? Andiamo a vedere il videoclip subito così Anche perché poi ce n'abbiamo un'altra Insomma, guardate